Glenn Graham, il grande whisky di Malto, vi presenta... Vita facile, donne facili. Ned Rossin è nato per il gioco semplice. Brucia tutto molto in fretta. Ma da quando è lei a dare le carte, tutto è diventato dannatamente difficile. Si punta al buio. La posta in gioco è il destino. E c'è qualcuno che bara. William Hart, vincitore di Cannes 85 dell'Oscar 86. Rivido, caldo. Prima TV, domani alle 20.30. Accendi la tua passione su Canale 5. Heineken, lontano dal solito. American Ingo Ma, ah, finalmente su una macchina giusta. La Super 5, bella, scattante. E che classe, fuori e dentro. È impossibile resistere. Fammela provare. E poi è impossibile resistere a 6 milioni di finanziamento senza interessi. O a 48 rate a partire da 212 mila lire. Poi, benzino, diesel, eh? E voi? Resistete? No. Io resisto, voglio. Renault Super 5. Impossibile resisterti. DJ Time Holiday. Una vacanza in musica firmata a Spagna. Richanel, 48, Malenkin. Metti in valigia DJ Time Holiday. E parti con Tracy Spencer, Whitney Houston e tanti altri. DJ Time Holiday. Su Diskin Astri e Compact CBS. Il segreto dello style è più di uno spray che sostiene e basta. O di un gel che si limita a fissare. O di una spuma che modella solamente. È qualcosa di nuovo che si prende cura dei capelli. Sono gli style indiscentene. Style indiscentene. Il segreto di uno splendido style e dei tuoi splendidi capelli. In quattro anni di governo a guida socialista, l'inflazione è scesa dal 16 al 4%. Stipendi, risparmio, pensioni, sono stati difesi e garantiti. L'Italia è cresciuta. Partito Socialista Italiano. Cresce l'Italia. Forse un garofono starebbe bene anche a voi. Soffice cotonelle. Carta igienica cotonelle. Più che morbida. Come dire? Soffice. Soffice cotonelle. Ehi, tu, premi. Schiaccia. Schicta. Oggi informarsi è un piacere. Con Oggi è in edicola il vocabolario europeo dell'estate. In quattro fascicoli tutte le parole per capirsi con gli stranieri. In edicola Oggi. Vado in banca e trovo una coda. Se vai alla Cariplo la puoi evitare. Ah sì? E come? Con i servizi automatizzati CariPersonal. Prelievi, versamenti, pagamenti si fanno da soli e con l'onbanking anche da casa. CariPersonal. Una ragione in più per scegliere Cariplo. Nella vita di una famiglia ci sono tante piccole cose con cui una donna dimostra tenerezza, amore, attenzione e cura. Io per i miei cari preferisco tonno alco perché in alco c'è tanta cura che si vede e si sente. Tonno alco. Tanta cura, tanto sapore. Sei brioso, unico, estroso, amabile? Il vino ti somiglia. Il vino è uno di noi. Splendid Mocha, il caffè dal gusto forte, vi offre... Splendidi! Siamo in collegamento con Ferragosto OK. Vi aggiorniamo sulle posizioni dei partecipanti alle serate. Signora Eliana con figlia in ottava fila. Signora Marcella in settima fila. Allenatore e il suo pupillo in sesta fila. Lella e Guendalina in quinta fila. La famiglia Nardacci in quarta fila. Lo splendido Jacocca in terza fila. Aurelio e la fidanzata Carmela in seconda fila. Giusto e Severo in prima fila. C'è chi può, io può. Ferragosto OK. In pista il 28 e 29 maggio alle 20 e 30 su Italia 1. Sincero l'olio sapio sul tavolo è un invito. Lo versi sulla pizza e poi buon appetito. Olio extravergine d'oliva sapio. Olio sincero di Puglia. Cornetto Alcida Cuore di Pan Folonari Folì Oggi il vino si chiama così e la tavola canta. Folonari Folì L'appetito comincia così Folonari Folì Per il pranzo e la cinta È una musica leggera È di grosso vivace Ha quel grido che piace Bianco spizzante Così fresco ed invitante È la musica folì Oggi il vino si chiama così Folonari Da 160 anni Sincero di Vigna Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Branca menta Branca menta Branca menta Per una fresca estate Cristallina Versa, persa Cristallina Gira, gira Bevi, bevi Cristallina Dalla fonte di casa tua Cristallina La tua acqua da tavola Vai Rouge L'appenimento musicale dell'anno I più grandi successi di Enrico Ruggeri In un album doppio Registrato dal vivo Con l'orchestra filarmonica Vai Rouge Mi auguro di rivederla, signor Emmer Io ne sono sicuro, signora Benito Seguirà Mike Emmer Mi auguro di rivederla, signora Benito Mi auguro di rivederla, signora Benito Mi auguro di rivederla, signora Benito